Cari spettatori, tra le liste di oggi ne abbiamo citata una, più di una, ma una di cui si è parlato molto poco, Potere al Popolo, 0,8%. Viola Carofalo è la rappresentante, come dobbiamo dire? Il capo politico. Lei è il capo politico? Lo dice Rosatellum. Va bene, il capo politico di Potere al Popolo, che è una lista di sinistra, diciamo con chiarezza. E che differenza c'è? Perché in questi minuti il telespettatore interessato dovrebbe preferire Potere al Popolo rispetto a Liberi Uguali o al Partito Democratico o a qualsiasi altra suggestione di sinistra o di centrosinistra? Perché noi non avremmo mai fatto il Jobs Act, non avremmo mai fatto la Fornero, perché siamo gli unici che dicono che vogliono redistribuire la ricchezza, vogliono fare una patrimoniale, non vogliono più le spese militari e vogliono un lavoro stabile e sicuro per tutti. Voi avete contestato sul territorio, ad esempio a Napoli, molte manifestazioni, ad esempio quella comune di D'Alema e della Camusso riguardo ai temi del lavoro, impedendo loro di parlare all'università. Questa condotta, diciamo, di disobbedienza civile, la vogliamo chiamare, che cosa vuole significare? Vuole significare che ci sono degli spazi che devono essere spazi di democrazia e il paradosso è proprio questo, che in questi spazi ci parlano solo ed esclusivamente le persone che la democrazia e il potere al popolo, il potere di parlare, ce l'hanno tolto. D'Alema ha fatto cose gravissime, penso alla Fornero, ma penso ancora prima perché è stata la mia formazione alla guerra in Kosovo. Noi non possiamo consentire, io non ero lì, sono troppo vecchia per stare all'università, ma chi lì l'ha contestato io credo che abbia fatto una cosa giusta, perché in quel contesto parlare di lavoro è uno schiaffo a tutti i disoccupati, i precari che ci sono al sud, soprattutto i più giovani, quelli che stanno all'università. Siamo realisti, non vincerà le elezioni il potere al popolo, questo è un passo iniziale per voi, cosa vuole essere? È un passo iniziale, è un passo importante, intanto ci vediamo venerdì e vediamo se non c'è qualche bella sorpresa sull'ultimo sondaggio, sull'ultimo rilevamento. Potrei occuparle lo studio fino a venerdì, no a parte scherzi, sono stato contro la guerra nel Kosovo, non ha neanche questo appiglio per occupare. No, e poi ci ha anche invitato, quindi non ha neanche il fatto che non ci fa parlare. No, però io penso che intanto che i sondaggi saranno diversi da quelli di oggi e penso che stiamo costruendo qualcosa di enorme. Ci sono assemblee in 150 città in Italia e quindi andremo avanti anche molto oltre il 4 marzo, ma io sono ottimista, lo superiamo lo sbarramento. Va bene, non dico niente, grazie Carofalo. Dopo di noi Lili Gruber a 8 e mezzo a Matteo Renzi. Grazie. 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 Grazie.